E adesso parliamo di chirurgia a misura di paziente, una rivoluzione nella tecnologia. Il Policlinico di Milano si rinnova grazie a nuove tecnologie e a una squadra di professionisti al vertice della chirurgia nazionale e internazionale, capaci di rendere l'offerta di cure tra le più complete e a misura di paziente del nostro paese. Si lavora in maniera sinergica, multidisciplinare e multiprofessionale. E' proprio di qualche giorno fa che il Policlinico, anche nel 2016, è il primo IRCS pubblico a livello nazionale. E questo ad evidenza del fatto che si lavora insieme e che la ricerca al Policlinico è fondamentale ed è propedeutica per un'ottima sanità. Sale chirurgiche con robot, neuronavigatori e schermi ad alta definizione. Ecco come cambiano le sale operatorie del Policlinico di Milano. Hanno delle tecnologie legate all'altissima definizione come per esempio la tecnologia 4K che permette al chirurgo di ottenere delle immagini estremamente definite di dettagli e quindi migliorare poi la prestazione chirurgica e il risultato per il paziente. E l'altra tecnologia sicuramente è quella fluorescenza che permette di ottimizzare il risultato chirurgico. Qualità delle cure per dare maggiore sicurezza al paziente e aumento dell'efficienza. E i risultati si vedono. Il lavoro di squadra tra urologie e trapianti del rene ad esempio ha già permesso un aumento del 20% degli interventi. Gli spunti di novità sono la possibilità di avere una ultra visione, la possibilità di operare con chirurgia robotica, la possibilità di collegarci con tutte le sedi di docenza, quindi tutte le sedi universitarie e soprattutto con tutto il mondo.